Educare i consumatori di domani a riconoscere l'autentico olio extravergine di qualità. Insegnare ai bambini storia e cultura dell'olivo, simbolo della nostra terra. Questo il senso della manifestazione Olio in Masseria, promosso dalla Copagri di Puglia a Masseria Spina di Monopoli. I piccoli alunni delle scuole elementari della città visitano gli oliveti e l'antico frantoio ipogeo del VII secolo, con le guide che danno lezioni su coltivazione, raccolta e cura delle olive fino alla produzione dell'olio. Una iniziativa di formazione che rappresenta la risposta della Copagri alla crisi del settore olivicolo pugliese, tra xylella e maggiori importazioni di olio dall'estero, come il caso Tunisia. Diventa così fondamentale l'utilizzo dei prossimi ultimi finanziamenti europei. Come associazione di categoria noi nei tavoli di preparazione al PSR 2014-2020 abbiamo chiesto alla Regione Puglia di riservare molta attenzione all'olivicoltura pugliese dopo i problemi sorti in seguito alla xylella. Devo dire che la Regione Puglia ha recepito la nostra segnalazione e il PSR, che partirà a breve già col prossimo comitato di sorveglianza, ha riservato gran parte dei fondi all'olivicoltura.